Con Team Vision puoi avere tutto. Tutto Netflix. Tutto Disney+. Tutta la serie a team su The Zone. Tutto Infinity Plus con la UEFA Champions League. E molto altro ancora. Tutto con un solo telecomando. Tutto. Punto. Ora in promo a 29,99 euro al mese. Nei negozi team al 187 o su team.it.